Consegnato al Comune di Agropoli l'autoveicolo per il trasporto di persone svantaggiate e disabili, l'operazione è inserita nel progetto di mobilità garantita, grazie al quale l'ente avrà a disposizione l'autoveicolo concesso in comodato gratuito da una società privata, quest'ultima grazie al sostegno delle imprese del territorio che acquisteranno spazi pubblicitari che verranno inseriti sul mezzo, riuscirà a garantire la manutenzione del veicolo per i quattro anni di durata del comodato. Il servizio di successo sia in termini di visibilità per chi ha partecipato, ma vi garantisco si può toccare con mano veramente la risoluzione dei problemi che diamo a tante persone tutti i giorni che hanno il problema di essere accompagnati alla posta, piuttosto che alla banca, piuttosto che a fare una visita all'ospedale, alla clinica, veramente noi diamo un piccolo sollievo perché queste persone probabilmente affrontano problemi enormi, grandissimi, ma gli diamo questo piccolo sollievo ed è diventato per loro un momento di vicinanza nostra a loro, si sentono tra virgolette aiutati, anche se per una piccola cosa, però si sentono vicini, quindi è anche un modo di stare vicino alle persone che sono più bisognose.